In crescioso episodio questa mattina presso gli uffici delle politiche sociali del Comune di San Severo. A nome dell'amministrazione comunale la mia vicinanza e solidarietà di tutta l'amministrazione ai ragazzi e le ragazze che quotidianamente con sacrificio, con senso del dovere e con grande spirito di abnegazione rendono il loro servizio in quegli uffici. Ringraziamento anche ai vigilantes Marinelli e Ceci per aver sventato prontamente che quell'episodio potesse portare a gravi conseguenze.